Salve, mi chiamo Luigi e vengo dall'Italia. Ho conosciuto la clinica dentale M3Dent tramite internet e ho deciso di dare una sistemata definitiva e radicale alla mia dentatura. Devo dire che i medici dentisti della clinica hanno una notevole competenza, una grande professionalità e agiscono con rapidità nei loro interventi. Il risultato è ottimo, anche superiore alle mie aspettative. Mi sono stati effettuati degli impianti dentali su cui innestare due protesi dentarie complete in metallo ceramica. Mi preme anche sottolineare la grande cordialità, gentilezza, disponibilità, cortesia da parte di tutto il personale della clinica, che ringrazio caldamente per l'empatia e la fiducia che hanno saputo esprimere e suscitare. Non posso far altro che raccomandare a chi avesse necessità di interventi completi a costo contenuto questa clinica. Grazie.